bella a tutti i ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo tornati sempre su fortuna questo sarà il terzo video sui portanti con due live una live ha fatto schifo una live vittoria la mia prima vittoria reale che lo trovate sempre qui sopra che vi lascio in descrizione in descrizione comunque facciamo la nuova modalità sfida tra cecchini insieme al mio compagno che dovete iscrivervi al suo canale assolutamente grazie mille allora sì oggi siamo i benvenuti sul canale di piero ingrediti pro gamer dai partiamo subito i ragazzi invece sono uno sciopone di quelli che non scioppa niente infatti non ho sciopato questo cosa è gratis ombrellino per farti capire se ho finito già le munizioni le esultanze esultanze c'è vabbò mosse che si sbloccano con il passo da battaglia quindi c'è no tipo sei ma credo che il pass battaglia allora già ho mostrato sto posto prima comunque il posto che rendiamo di solito secondo video o andiamo al container lo sei dove non va oppure qua sotto vicino a questo commercio alla città un botto di roba prima trovata la scarpa mi stanno cerchionando morto mi sono cerchionando bene sono morto sono morto sono morto dove cazzo stai ragazzi avete teorie su che cosa sarà quel meteorite che colpirà pinnacoli a google ho letto che delle breaking news che ci sarà forse ci saranno forse eliminano proprio pinnacoli come ci stavano da me e alla casa vicino alla casa dove ho appuntato sa qua uno quando sparare ma con la balastra che non sono morti con lo star per parte sacco no non ho preso non ci credo che svinato che ho fatto eliminato morto se riesci ci vediamo anche se ci sono un altro ci sono altro qui non ho tanto eccolo faccio non so troppo lontano guarda come non ho fatto a 30 dai non ho fatto un po' da dopo vedo che stai mora vedi a scappare nel ponte va ho l'ultimo colpo no ho finito i munitori ho finito sono morto sono morto cosa c'era la scuola ma io ho tolto manco la scuola scusa marco sono che ogni tanto uso su play quindi mi sconette la soli c'è ma completamente così forse facciamo qualcosa dai 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 ok proviamo questa nuova partita un po' con le ragazze facciamo che questa è dopo che in caso perdiamo cioè in caso della moto sta partita facciamo solo questo se no dopo non facciamo più c'è la scuola non gli occhi agli mamma mia che la cosa le cose è la guarda messa la testa ma vediamo che cosa è che mi piace sempre in picchiata arrivi prima no perché ho avuto a quello perché non ho imparato alla ciccia ah perché ogni tanto vedo molta volta visto la live e lui si era sempre in picchiata quindi allora qui non ci sta qua sotto non c'è nessuno cassa cecchino viola quello la quella che non ci piace ah quello che piace a me? no quello che non sia quello che si non si ricarica eh sì quello che ci dici colpi cambia come le cammine attra cassa qui quindi avrà torri avrà trovato tipo qualche caos sanno allora un mapozza grande erano più negli scildini ma poi tornando tra la te ha trovato volerci e chi non ho la qui c'hai tu allora la forza grande te la do a te non mi mando pure qui c'è la caccia ma adesso posso tu sei tu? si si sa che sei ok 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 ti vieni qua la scuola molto gentile qui sono stato stupito che devo... ah non posso farlo allora qui abbiamo caduto tutto ok vi diamo una safe e sta in safe ok ora presto ma non la prendo dai c'è un po' in un'altra sopra quindi mi muovo in giro è contattato nel camion no? si si il camion ne sono stato dove c'era la cassa io stavo a uccidere uno che si era che si va a costruire scale a fare e non ho preso allora dire come quello che è successo a me avevo visto della gente a occhio ci sono stati quali no è lottato anche le trappole ho visto la gente a se non è bene non avendo io che le storie c'è io allora non ci stavamo un agenzio agente che ho visto c'è 91 allora che spero da uno e se questi di fortino ovviamente quelli e vabbè poi stavolendo il fortino e stavano a sparare ovviamente e vabbè poi da dove da dove ho fatto stato vedi dentro casa allora come si è stato dicendo e poi sono così questa la sprendere il fortino vado avanti e vedo che sta quello della fermo lo si gli sparo gli ho tolto 20 di scudo e 80 di vita mi sembra poi vedo arriva un altro colpo l'hai fatto tu dopo morto quello ne arrivò un altro che stava lontano prende fucile la caccia e loro lo fa io ho fatto proprio shot l'ho sottato e niente poi siamo capanti e poi c'è una carta quelli la ho già sentito si è trattato distruggersi si 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 allora sopra la collina neanche saranno a destra ecco i lo visti dove dove ho preso a sud dietro la roccia quella casa l'hanno preso però so vigile non è forte c'è solo se c'è chi non è forte quindi ho tolto un po' ma come ho fatto questo punto e no a provisto con il suo stato altro una storia camisa e se non mi so aspetta non sto lontano di brutto un po' di qua modifica io ho fatto male si è spaventato mamma mia che tu sei spaventato vabbè e che facciamo da sopra io sto un attimo qui sotto ha sbagliato tranquillo oddio sei tu è il drop è il drop eccolo no sta qui 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 chiudi chiudi no cazzo fa chiedi se arriva qua se arriva ci sta uno qua venire da sotto sembra qua e sotto oddio vabbè da una cecchina vada è quella 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 è quello quello che ero sparato io stavo a far sparargli ecco sta qua vabbè 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 e vieni qua vieni qua ci stava stava costruita tipo le scale sì sunn'? stava costruendo si tua waa sopra qua sopra qua sopra 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 so jafta sopra al tetto sopra il tetto si sto sopra al tetto dietro noi dietro dietro la porta avvata però si è tolto io ha tolto lo sto d'avessare sotto sta qua porta ci sono due salito sanito 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 tocca un po di vita aspetta non è so trappola diceva non è sua trappola e vogliono da fuori ricarica sta cacchio di palestra prendi e voli no c'era una dietro a faccia e faccia sarò sotto sopra ragazzi video di questo è tutto lasciate like iscrivetevi rispondite al sondaggio se volete una collaborazione dal vivo una collaborazione dal vivo con questo youtuber qua che allora che dovete innanzitutto mettere un like al video assolutamente iscrivete al canale di pro gamer poi votate il sondaggio se lo mette non so si poi andate in descrizione legge da descrizione se vi ho passato il mio canale iscrivetevi non so di quello che volete insomma e niente noi ci vediamo nei prossimi video con piero bella bella voglia la iscrivetevi al canale